L'explanazione di questa comparazione o anche di questa assimilazione tra il communismo e il fascismo questa esplanazione non è filosofica e non è storica è solo immediatamente politica e ideologica In order to understand this point preferisco parlare di un altro importante capítulo della storia contemporanea perché in questo caso possiamo vedere con più chiaramente le operazioni ideologiche che ho parlato se consideriamo la rivoluzione di Santo Domingo a l'inizio del XVIII secolo e a l'inizio del XIX secolo vediamo un protagonista di una grande rivoluzione e questa grande rivoluzione è composta a face un grande militare l'apparato later dopo la vittoria di questa rivoluzione vediamo Napoleone manda un grande militare l'armi in order per reintroduire in Santo Domingo Haiti la rivoluzione e la dominazione coloniale la rivoluzione è terribile la rivoluzione è molto cruel da qualsiasi questo è chiaro ovviamente magari qualcuno può dire sì la rivoluzione di Sainte L'Uverture che è il leader dei slaviti non era più violente come la rivoluzione che è stata portata di Charles Leclerc che Charles Leclerc era il figlio di Napoleone e di Napoleone in order subjugare i slaviti e i neri noi possiamo dire che alla fine di questa rivoluzione due parti hanno avuto una guerra totalitaria dobbiamo dire che Leclerc e Charles Leclerc e Sainte L'Uverture erano totalitariani è molto ridicoloso è molto ridicoloso nel modo morale possiamo condividere la violenza dei slaviti che tentano evitare la slavità e subjugazione e la violenza dei slaviti che tentano imporare la slavità e la dominazione morale questa attitudine non consistente è non è ma questa attitudine è non è anche sull'escrizione ma se consideriamo la situazione in questo tempo all'inizio XVIII all'inizio 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 di totalitario e l'Università era rappresentante della democracia liberale democracia che sarebbe ridicoloso in l'Università vediamo Thomas Jefferson Thomas Jefferson non solo era protagonista di una crisi per difendere la slavera dopo la victoria della rivoluzione in Santo Domingo Haiti Thomas Jefferson ha organizzato un blocato un embargo con oggi contro la Repubblica contro Santo Domingo Haiti contro il primo paese americano con slavera 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 Thomas Jefferson fu con Napoleone fu con Napoleone per suprire la rivoluzione dei slaveri rivoluzione totale totalitarismo è falsificato totalitarismo è falsificato perché trasforma in alli i 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 dei sui allai Jefferson fu a napoleone nel suppression della Slavera e E, ovviamente, Toussaint Louverture era molto forte, o era molto totale in sua struttura contro la slaveria, ma la struttura contro la slaveria non è la stessa struttura per la affermazione della slaveria. E la stessa, se consideriamo il XX secolo, è la stessa. Quale era il fascismo? Quale era il nazismo? Possiamo considerare prima il terzo Reich. Se leggiamo i texti dei leader del terzo Reich, ho chiamato una personale del terzo Reich, con il nome di Himmler. Himmler era uno dei leader del terzo Reich. e, in questo discurso, il discurso segreti, perché il pubblico erano nazis. e, durante questi discurso, Himmler ha detto che ora non siamo nazis, posso parlare molto liberamente, posso parlare molto aperto, bisogna essere slaveri. senza slaveri non possiamo creare l'empire che stiamo creando in Osteuropa. E questi slaveri sono i slaveri, i slaveri, sono la popolazione della Unione sovietica e dell'Osteuropa. E questo nazismo, il terzo Reich, era l'attempo di inerire e di radicalizzare la tradizione coloniale e di expandere questa tradizione coloniale in Osteuropa, anche. In questo caso, dobbiamo fare la stessa considerazione che ho sviluppato riguardo alla rivoluzione in Santo Domingo. È moralmente nonostante giudere i slaveri che fanno la rivoluzione per abolire la slavera e i slaveri che staggiano in order per fare un'eterno slavera e una domina coloniale e in questo caso anche la categoria del totalitarismo trasforma fos in alli e alli in fos di sono le antecedenti del terzo rio 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 rile essenziale. E Rosenberg ha scritto che le Stati Uniti sono un stato racista, il stato racista è la nuova idea per il futuro. La condizione dell'enslavement o di superdinazione per i neri deve essere riuscita anche ai giù. E' questa è la storia del terzo Reich. Se vogliamo capire il terzo Reich, bisogna capire la tradizione coloniale e la tradizione americana. Ho dimostrato nel mio libro che senza l'Università non possiamo capire il terzo Reich. Faccio almeno un esempio. Se chiedermi qual è il termo che explica l'horror del terzo Reich, magari la risposta è Untermensch. Il termo germano è Untermensch. Plurale è Untermensch. L'untermensch o l'untermensch dove i uomini o le uomini che avevano solo l'apparanza di essere uomini e uomini erano Untermensch. E noi possiamo spiegare qual è la origine di questo termo. Il termo germano Untermensch è solo la tradizione dell'americano Untermensch. Questo termo Untermensch è stato inventato da un autore americano per il nome di Lothrop Stoddart. Lothrop Stoddart ha scritto, al principio dei 20 anni, un libro con il titolo Il menace di Untermensch. Il menace di Untermensch. Il menace di Untermensch. Il menace di Untermensch. Il menace di un uomini. Il menace di un uomini. Ma per Lothrop Stoddart il menace di un uomini era subjugato o era morto. E i nazi hanno solo tradito questo termo. Lothrop Stoddart era traslato immediatamente in germano ed era dedruendo la menace degli uomini i principi termini della nazi ideologia sono di origine americana perché il nazismo il terzo reich voleva inerirare e radicalizzare la tradizione coloniale e la relazione tra le race nella USA era ovviamente la dominanza dei uomini e la subjugazione dei uomini e questa hiararchia la hiararchia la superiorità dei uomini sui coloniari questo è un punto importante della nazi ideologia questo non possiamo capire il terzo reich senza la tradizione coloniale e senza la tradizione americana coloniale senza il tratamento imposto dai uomini negli uomini negli uomini e negli uomini dei uomini quindi l'ideologia del terzo reich Rosenberg parla con grande entusiasmo della Repubblica americana anche se leggiamo Mein Kampf il libro Hitler Hitler ha parlato molto bene dei uomini ha parlato molto bene riguardo su un'altra parte la relazione tra le razioni tra le razze e su un'altra parte Hitler ha parlato con entusiasmo dell'advanzamento della razza della razza per Hitler la razza era in Ostea e Hitler molto spesso ha detto che il nostro la razza era in Ostea Europa e la razza ha parlato con i nativi in Ostea 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 per Hitler su un'altra parte erano i rossi della razza erano decimati per per fare la germanizzazione del territorio in Ostea 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 per il servizio della razza della razza superiore e quelli che promuovano la ribellione delle razze inferiore i bolshevici erano come i giudici erano comparati con i giudici e erano 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 perché erano responsabili di questa non rivoluzione le sources del III Reich possono trovare nella tradizione coloniale e soprattutto nella tradizione americana americana la categoria del totalitarismo è un misunderstanding nel migliore della storia o magari è una falsificazione della storia reale storia 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 un storia storia terror